Ospiterà 320 posti per autovetture e motocicli il nuovo parcheggio che l'amministrazione comunale di Chieti sta predisponendo allo scalomerci adiacente alla stazione ferroviaria. L'area di sosta, che avrà accesso da Piazzale Marconi, sarà disponibile entro la fine di settembre. Il contratto di locazione tra il Comune e l'azienda ferroviaria ha la durata di sei anni con proroga. I lavori di adeguamento dell'area per un importo di circa 100.000 euro prevedono anche la demolizione di alcuni manufatti per rendere più agevole la fruizione del parcheggio, che, sottolinea l'assessore lavori pubblici Mario Colantonio, sarà gratuito per l'intera giornata. Il parcheggio della stazione dell'ex scalomerci è una realizzazione importantissima per la città perché darà modo di parcheggiare gratuitamente sui 320 posti macchina, posti auto, più ci saranno posti per disabili e chiaramente parcheggi, stalli per motocicli. È una realizzazione di piccola entità perché oggi come oggi non è importante spendere molto, ma è importante spendere bene. In tutto si spenderà 98.000 euro grazie alla concessione in locazione da parte delle ferrovie dello Stato, con cui c'è stata una grande sinergia in questi mesi. Siamo riusciti ad avere in locazione quest'area, che è di fondamentale importanza per la zona dello Scalo. Cercheremo nei prossimi mesi di concretizzare anche le realizzazioni dei parcheggi alla città alta. Cercheremo nei prossimi mesi di effetti. Circheremo 31.000 euro C Transformersi 30.000 euro